Dovrà rispondere di voto di scambio politico mafioso l'ex sindaco di Vittoria Giuseppe Nicosia arrestato dalla guardia di finanza di Catania insieme col fratello Fabio, attuale consigliere in tutto sono sei gli innagati. Sono stati identificati i responsabili del furto a circolo di Dattivo Piano Gesù a Modica Alta. La polizia del locale commissariato ha denunciato 9 persone tra cui due donne e quattro minorenni che hanno rubato 12 computer per un valore di 10.000 euro. Le cancellazioni dei voli della compagnia aerea Ryanair sta creando allarme in tutta Italia, nessun volo a rischio accomiso, intanto sui disagi negli aeroporti siciliani sono intervenuti l'antitrust del consumatore sicile a tutela dei consumatori. Oggi è San Matteo, il patrono delle fiamme gialle e anche la guardia di finanza di Ragusa celebrato con una maestà ed ha ufficiata da Don Gino nella cattedrale di San Giovanni Battista. Buon pomeriggio ancora, bentrovati a questa nuova edizione di MTG. In apertura, lo avete sentito, c'è la cronaca perché tra gli arrestati dalla guardia di finanza di Catania c'è anche l'ex sindaco di Vittoria, Giuseppe Nicosi, all'accusa di voto di scambio politico mafioso, l'ex primo cittadino è rimasto in carica fino al maggio 2016, lo ricorderete, poi a giugno fu eletto sindaco di Vittoria Giovanni Moscato, insieme con l'ex primo cittadino e anche agli arresti domiciliari Fabio, il fratello Fabio Nicosia, eletto tra le file del Partito Democratico attuale consigliere comunale e davano, secondo l'accusa della procura, chiedevano dei voti in cambio di appalti pubblici e servizi, tra l'altro avvalendosi della collaborazione di appartenenti al clan della Stidda. Sono in tutto 6 gli indagati, questa mattina la conferenza stampa, in procura a Catania ce ne parla Sara Donzuso. Scambio elettorale politico mafioso, questa è l'accusa che viene mossa nei confronti di sei soggetti, tra cui l'ex sindaco di Vittoria Giuseppe Nicosia e il fratello Fabio, attuale consigliere comunale. Grazie all'operazione Exit Poll, le indagini fanno riferimento alle elezioni amministrative tenutesi nell'anno 2016 nel comune di Vittoria, nel Ragusano. I sei agli arresti domiciliari sono Giuseppe Nicosia, già sindaco, Fabio Nicosia, consigliere comunale, Gian Battista Puccio, detto Tito Ballerino, appartenente all'associazione mafiosa di Cosa Nostra e della Stidda. Vennerando Lauretta, già condannato per la sua appartenenza al clan dominante Carbonaro, è Raffaele Di Pietro e Raffaele Giunta, entrambi gravati da vari precedenti penali. Grazie a delle intercettazioni telefoniche, perquisizioni, sequestri e acquisizioni documentali, unite alle importanti dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, è emerso con non chiarezza l'intreccio affaristico politico mafioso, che nella città di Vittoria ha condizionato e orientato le scelte elettorali, anche prima delle elezioni amministrative del 2016. I fratelli di Nicosia, pare, abbiano ricevuto a vittoria il sostegno elettorale della Stidda, sia nelle amministrative del 2006 e del 2011, sia nelle regionali nazionali del 2008 e del 2012. Il convogliamento dei voti veniva ripagato dal sindaco Giuseppe Nicosia con l'assegnazione di appalti e posti di lavoro a favore degli attuali coindagati Giunta e di Pietro. Il collaudato sistema clienterale si reggeva inoltre anche sui voti degli operatori ecologici. Alle ultime elezioni il sindaco uscente Giuseppe Nicosia assicurava infatti l'assunzione di 60 dipendenti dalla società subentrante nella gestione dei rifiuti a Vittoria. Per gli esponenti di vertice della Stidda erano particolarmente attivi nella gestione economica di interi settori, quali la raccolta della plastica. Prima delle elezioni del 2016 ci sono stati registrati i contatti tra i Nicosia e gli esponenti di vertice del clan Siddaro, Puccio Giombattista e Venerando Lauretta. Da una intercettazione, Lauretta dichiarava che appoggiava i Nicosia che avevano promesso lo sgombro di un edificio pubblico dove consentire di avviare un centro di assistenza per persone con handicap. Fredestina tale alla misura interdettiva anche Nadia Fiorellini, all'epoca dei fatti assessora al Comune di Vittoria, che nella sua qualità di pubblico ufficiale risponde di falso ideologico in atto pubblico. La mafia cerca la politica e la politica cerca la mafia, lo ha detto il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Carmelo Zuccaro, rispondendo alle domande dei giornalisti. Un affare ben articolato, così come anche emerso dalle indagini portate avanti dalla Guardia di Finanza di Catania. Procuratore, ancora una volta la mafia è il principale bacino dei voti per qualsiasi tornata elettorale. Proprio così abbiamo potuto registrare che nel corso delle elezioni del 2016 che vi sono stati condizionamenti fortissimi da parte di gruppi mafiosi della Stida per le elezioni che si sono svolte nel corso del 2016. Ma tutto parte da dichiarazioni di collaboratori di giustizia che ci parlano di condizionamenti nelle elezioni amministrative, nelle elezioni politiche e nelle elezioni regionali che risalgono al 2006. Sostanzialmente già quantomeno dal 2006 si era aperta un'autostrada, un percorso molto agevole, molto pervio nel quale politici senza scrupoli e mafiosi concordavano tra di loro vantaggi e purtroppo indirettamente in queste cose vengono coinvolti anche soggetti, comuni, cittadini, privati che sono soltanto alla ricerca della stabilizzazione del proprio posto di lavoro. Qual è la posizione del Moscato? Si tratta di soggetto la cui posizione non è stata sottoposta al doveroso vaglio del giudice e poiché la Procura non intende sul punto fare esternazioni se prima un giudice non si pronuncia, posso dirvi soltanto, perché questo risulta dal provvedimento restrittivo, che è uno dei soggetti sottoposti ad indagini. Le ricreazioni dei collaboratori di giustizia che abbiamo registrato e che integrano il quadro che è emerso dalle indagini svolte dai miei militari che hanno compreso il periodo aprile 2016-febbraio 2017, quindi siamo stati in grado di monitorare a caldo le dinamiche assolutamente effervescenti che hanno accompagnato quelle elezioni, dimostrano come dicevo prima che in quel contesto non da oggi, ma da qualche tempo questo accordo politica-mafia è abbastanza radicato. E' ancora prematuro parlare di scioglimento del Consiglio Comunale di Vittoria, proprio perché il provvedimento cautelare ha riguardato un solo consigliere comunale, appunto Fabio Nicosia. Ufficialmente al momento non c'è alcun altro iscritto nel registro degli indagati tra gli amministratori e quindi ancora la situazione a quanto pare in continua. Evoluzione, sarà tuttavia la Prefettura di Ragusa tramite il Ministero dell'Interno a comunicare eventuali altri provvedimenti a carico del civico consesso dove si profilassero anche delle ipotesi di presunte infiltrazioni mafiose. Intanto il Sindaco di Vittoria, Giovanni Moscato, ha comunicato che domani vuole incontrare la stampa nel Palazzo Iacolo, proprio sala degli specchi, quindi sede del Comune di Vittoria, per chiarire la sua posizione e riferimento ai fatti giudiziari di oggi. Voltiamo pagina, sono stati identificati gli autori del furto al circolo didattico Piano Gesù a Modica Alta dalla polizia del commissariato di Modica che ha denunciato nove persone tra cui due ragazze e anche quattro minorenni. Sono nove le persone denunciate per il furto aggravato di 11 computer, fisti, 5 notebook, stampanti laser, un videoproiettore, mixer, casse acustiche e altro materiale usato dagli alunni per effettuare le lezioni in modalità informatiche al circolo didattico Piano Gesù a Modica Alta la notte tra sabato e domenica. Un'indagine in lampo dei poliziotti del commissariato di Modica diretti dal vicequestore aggiunto Nicodemo Liotti che ha permesso di denunciare la banda composta anche da due ragazze e quattro minorenni e di delineare anche la dinamica dei fatti. I responsabili sono tutti i modicani e con qualche precedente penale per gli altri contro il patrimonio. I malviventi hanno messo a segno il colpo a più riprese portando via la refurtiva sia con gli scooter che con un'auto nascondendo la refurtiva in un locale a Modica Alta e occultando invece in alcune delle loro abitazioni solo gli oggetti che potevano subito essere messi nel mercato come i notebook reinvenuti in una delle case delle due ragazze. Nel corso delle perquisizioni eseguite dalla polizia di Stato nell'abitazione di uno dei maggiorenni sono stati rinvenuti anche 5 grammi di cannabis indica detenuta per uso personale. L'assuntore è stato segnalato alla prefettura. Tutta la refurtiva del valore di 10.000 euro è stata riconosciuta e consegnata al dirigente scolastico Spiraglia mentre lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato. Tutti sono indagati in stato di libertà per i reati di furto aggravato e recettazione in concorso. Il dirigente scolastico della scuola elementare di Modica Alta, Sebastiano Spiraglia, ha esternato il proprio compiacimento per l'operato della Polizia di Stato che in breve tempo è riuscito a recuperare tutta la refurtiva consentendo agli alunni il regolare prosieguo delle attività scolastiche con le innovative modalità informatiche. Era stato proprio il personale scolastico di aver avvertito il 113 lunedì mattina quando all'apertura dell'istituto aveva trovato tutte le stanze di vita uffici e le aule a suo quadro e la sala multimediale svuotata di tutta l'attrezzatura. Proseguirà d'oltranza la protesta dei lavoratori del libero consorzio comunale di Ragusa, l'ex provincia, fino a quando non saranno erogati i fondi necessari per evitare il dissesto. L'esigua somma assegnata ieri dalla conferenza Stato, autonomie locali, 1 milione e 500 mila euro non è sufficiente per chiudere il bilancio ed evitare il disastro finanziario dell'ex provincia. Ce ne parla Carmela Minardo. Le risposte giunte da Palermo non erano quelle che i dipendenti del libero consorzio comunale di Ragusa si aspettavano. La protesta quindi proseguirà d'oltranza, sino a quando non saranno erogate le somme necessarie per evitare il dissesto. La conferenza Regione, autonomie locali che si è tenuta ieri a Palermo ha assegnato 1,5 milioni di euro all'entebleo sui 25 milioni stanziati nel bilancio regionale e suddivisi tra le nove ex province utilizzando quattro criteri oggettivi, numero abitanti, dimensioni provincia, numero sezioni scolastiche e chilometri strade provinciali. Per evitare il default il libero consorzio comunale di Ragusa adesso fa affidamento sui 21,5 milioni di euro inseriti nell'assestamento di bilancio della Regione siciliana che verranno assegnati secondo altri criteri ovvero il differenziale tra entrate ed uscite. Per arrivare al differenziale bisogna però accertare con elementi omogenei fra i vari enti quale le entrate e quale le uscite. Il direttore del Dipartimento si è preso qualche giorno di tempo per definire la tabella che dovrà verosimilmente sostituire quella che la Giunta regionale aveva approvato il 13 settembre e che poi il Presidente Crocetta ha sospeso lunedì scorso dopo l'incontro con il Commissario Cartabellotta. Da questi 21,5 milioni di euro se il libero consorzio di Ragusa non riceverà almeno 5,5 milioni di euro il dissesto non potrà essere evitato. Il primo riflesso è che probabilmente non potrà essere pagato lo stipendio ai dipendenti del mese di settembre. Ovviamente non sarà un passaggio facile questo. La notizia della revoca aveva infatti provocato la vehemente reazione del Presidente della Commissione bilancio Vincenzo Vinciullo secondo cui il decreto deve essere attuato. Il provvedimento con il quale sono state ripartite le somme non può essere revocato per Vinciullo in quanto i criteri e le modalità di riparto sono previste nella legge regionale dell'11 agosto scorso. Rimane comunque l'anomalia di una vicenda che riverbera i suoi effetti drammatici soltanto quando protestano le persone danneggiate ma la causa di tutto è una precisa volontà istituzionale e politica assunta dall'Assemblea regionale siciliana prima in Commissione bilancio e poi in aula dove anche i 5 deputati Iblei non risulta abbiano sollevato obiezioni particolari. Torniamo a parlare ancora del malcontento dei dipendenti dell'impresa ecologica Puccia di Modica che gestisce il servizio della raccolta dei rifiuti a Scicli. Ieri c'è stato un incontro tra la prefetta di Ragusa Maria Carmela Librizi e rappresentanti della funzione pubblica CGL di Ragusa che avevano segnalato sistematici ritardi nei pagamenti degli stipendi e dipendenti anche gravi violazioni degli adempimenti legati al contratto collettivo nazionale del lavoro. Ce ne parla già da Giacquinta? Incontro ieri in prefettura per discutere della situazione lavorativa dei dipendenti della ditta Puccia Giorgio di Modica che attualmente gestisce il servizio di raccolta rifiuti nel comune di Scicli. Il prefetto di Ragusa Maria Carmela Librizi ha accolto la richiesta della CGL Ragusa avanzata in una nota stampa datata l'8 settembre scorso convocando un incontro alla presenza anche del presidente del centro per l'impiego Giovanni Vindigni. A renderlo noto il segretario generale di CGL Giuseppe Scifo sentito da noi telefonicamente che dichiara saranno inviate delle segnalazioni all'ispettorato del lavoro relativamente alle violazioni degli adempimenti da parte della ditta. Nella nota dell'8 settembre il sindacato portava alla luce un forte malcontento da parte dei dipendenti della ditta non solo a causa dei continui ritardi nei pagamenti dei salari ma anche per il mancato riconoscimento dei diritti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In particolare nella nota dei sindacati si menzionano molte ore di straordinarie effettuate non pagate ai lavoratori e lo sforamento di tutti i limiti del monte ore giornaliero settimanale e annuale e la mancata iscrizione al Fondo Sanitario Nazionale. Diverse sono le irregolarità per quanto concerne il riconoscimento dei parametri igienico-sanitari. A oggi infatti non sono stati consegnati ai lavoratori i certificati di idoneità alla mansione e in più non sono stati tuttora svolti i corsi per la sicurezza. Il tutto, come dichiara Scifo, in un costante contesto di pressioni. Pare infatti siano stati inviati dei provvedimenti disciplinari ai dipendenti a seguito della loro partecipazione all'assemblea sindacale. Il titolare dell'impresa ecologica raggiunto da noi telefonicamente questa mattina smentisce le accuse dei sindacati dichiarando che la situazione è sotto controllo e che non sussistono problemi di alcun tipo, che i salari vengono pagati puntualmente e che non ci sono irregolarità. Lunedì 25 settembre i sindacati sottoporranno la questione all'attenzione dell'amministrazione del comune di Scicli nel corso di un incontro. Sta creando allarmi in tutta Italia la notizia della cancellazione dei voli da parte di Ryanair, la compagnia aerea irlandese e sono già centinaia i voli ufficialmente cancellati fino al 28 ottobre in avari aeroporti siciliani, escluso Comiso, dove la compagnia aerea, appunto la Ryanair, ha comunicato che nessun volo sarà cancellato. Però intanto ci sono anche gli interventi dell'antitrust di Feder Consumatori che appunto sono intervenuti per tutelare chi è stato danneggiato da questo provvedimento Ryanair. Sentiamo il servizio. Ryanair ha comunicato alla SOACO, la società di gestione dell'aeroporto di Comiso, che nessun volo sarà cancellato fino al 28 ottobre, ma sono già centinaia i voli ufficialmente cancellati negli aeroporti siciliani. È possibile che la compagnia di volo annunci altre cancellazioni anche nei prossimi giorni, ma se non arriva alcuna comunicazione ufficiale tramite mail, il volo sarà effettuato regolarmente. Ma Feder Consumatori Sicilia ha lanciato l'allarme perché la compagnia Laucosa ha avvertito l'utente che ha prenotato il volo solo a poche ore dalla partenza. Dunque l'associazione ha invitato chiunque abbia effettuato una prenotazione relativa al periodo del 20 settembre fino al 28 ottobre a controllare personalmente sul sito della compagnia lo stato del proprio volo. Feder Consumatori Sicilia ha ricordato che ai fini del rimborso del biglietto è essenziale conservare le ricevute o le fatture comprovanti l'acquisto del biglietto stesso. È bene poi conservare anche le ricevute di tutte le spese aggiuntive sostenute per eventuali pernottamenti supplementari, per l'acquisto di biglietti alternativi e per i beni di prima necessità. È indifferente che l'acquisto del biglietto del volo cancellato sia avvenuto online o in agenzia di viaggi. Il consumatore ha gli stessi diritti. In alcuni casi è anche possibile richiedere il rimborso per il disagio subito in caso di cancellazione del volo. In caso di controversia Feder Consumatori è pronto ad assistere i cittadini. Intanto l'autorità antitrust ha parto un procedimento istruttore nei confronti del vettore aereo irlandese per presunte pratiche commerciali scorrette in violazione del codice del consumo. In particolare l'antitrust ha contestato che le numerose cancellazioni potrebbero configurare una violazione dei diritti di diligenza causando notevoli disagi ai consumatori che avevano già da tempo programmato i propri spostamenti e pronotato e pagato il biglietto stesso. A ciò si aggiunge un secondo profilo di contestazione riguardante il tenore e le modalità delle informazioni con le quali Ryanair ha comunicato ai passeggeri la cancellazione dei voli e a loro prospettato le possibili soluzioni, rimborso o modifica del biglietto che potrebbero essere idonei a indurre in errore i consumatori circa l'esistenza e quindi l'esercizio del loro diritto alla compensazione pecuniaria. L'avvocato Gianni Tumino è responsabile cittadino del partito alternativa popolare di Ragusa. La decisione è stata votata all'unanimità nel corso della riunione della segreteria provinciale su proposta del commissario di Appinito Rosso. Gianni Tumino ha dichiarato oltre ad essere un professionista che conosco da moltissimo tempo, è una persona che segue il mio stesso percorso da oltre 20 anni, è una persona per bene, in grado di dare vita a un nuovo corso per questo partito. A lui ha detto ancora, Nitto Rosso in conclusione della nota, auguro buon lavoro e sono certo che non mi deluderà. San Matteo, patrono della Guardia di Finanza, è stato celebrato questa mattina anche dai finanzieri della provincia di Ragusa. Una santa messa è stata ufficiata da Don Gino Alessi nella cattedrale di San Giovanni Battista. La Guardia di Finanza festeggia oggi il suo patrono San Matteo, pubblicano, ovvero esattore delle tasse. San Matteo seguì Gesù con grande entusiasmo liberandosi dei beni terreni. È patrono di banchieri e contabili e della Guardia di Finanza. Le sue sfoglie sono custodite a Salerno, città di cui è patrono. Il documento papale che attesta il riconosciuto patrocinio risale al 1934, firmato dal cardinale Eugenio Pacelli che poi diventò Papa Pio XII. Dichiarava Celeste patrono della Guardia di Finanza San Matteo, apostolo ed evangelista. E come ogni anno la Guardia di Finanza il 21 settembre ricorda il suo patrono. Lo ha fatto anche quest'anno con la celebrazione della Santa Messa nella cattedrale di San Giovanni Battista a Ragusa, ufficiata da Don Gino Alessi. Erano presenti tra gli altri le massime cariche istituzionali in provincia, tra cui la vice prefetta di Ragusa, Concetta Caruso, il colonnello dei carabinieri di Ragusa Federico Reginato, il questore Salvatore Larrosa e i rappresentanti dell'ordine dei commercialisti di Ragusa. Oltre ovviamente al colonnello della Guardia di Finanza, Claudio Solombrino. È una testimonianza del fatto che la Guardia di Finanza comunque vuole essere vicino anche alla cittadinanza, avendo invitato alla messa tutti coloro i quali intenderanno partecipare per ricordare questo momento che per noi è importante perché comunque è un momento in cui riteniamo sia giusto fermarsi, fare un piccolo ritiro spirituale e non dimenticando sempre che comunque poi l'attività si continua e si svolge nel normale proseguo delle attività. Prenderà il via il 29 settembre al Foro Boario di Contrada Annunziata a Ragusa la 43esima edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea. L'evento è stato presentato questa mattina nella sede della Camera di Commercio di Ragusa. Geotecnia, meccanizzazione agricola, agroalimentare ebleo e poi focus sul polo avicolo modicano tra i più grandi del sud Italia, ma anche attività formativa e appuntamenti scientifici. Partirà il 29 settembre al Foro Boario in Contrada Annunziata a Ragusa la tre giorni della Fiera Agroalimentare Mediterranea, giunta alla 43esima edizione. La manifestazione si propone di valorizzare il comparto agricolo italiano, offrendo agli operatori uno strumento di promozione nonché una efficace vetrina commerciale. Questa edizione giunge in un momento particolare per l'ente camerale ebleo, segnato dallo spartiacque tra la vecchia Camera di Commercio e quella nuova Catania Ragusa-Siracusa. La gente a volte è fortunata, io ho la fortuna di essermi insediato nel momento giusto, lo dicevo prima, e soprattutto con una prima grande manifestazione che parte. Questa è la prima manifestazione che sono venuto a presentare. Purtroppo mancherò, perché nemmeno a farla posta me l'hanno fatta nei tre giorni che sono in Sardegna con un vecchio impegno, ma dico già che non mancherò l'anno prossimo, qualunque cosa succeda. Questo è un esempio di quello che si deve fare. Una bella cosa che è nata a Ragusa e cresciuta a Ragusa non si dura 43 anni se non si è bravi e che ora diventerà invece la grande fiera del sud-est localizzata a Ragusa. Grande protagonista anche quest'anno sarà la zootecnia con le razze bovine da carne, chaleroa e limousine. Spazio anche alla razza autoctona modicana e ad altre razze animali come l'asino ragusano fare puntati anche sulla meccanizzazione agricola. A questo punto non resta che semplicemente aspettare il nastro e sperare che dalle attività, dal lavoro che noi abbiamo fatto come Camera di Commercio di Ragusa, in collaborazione con il Comune di Ragusa, che è il titolare del sito, con il Consorzio Provinciale degli Elevatori, con i consorsi di tutela e non potrei citarli tutti, col Corfilac, con tutti gli organismi che in qualche modo con i quali ho rapporto e che mi aiutano, che aiutano la Camera di Commercio di Ragusa e la mia area di lavoro a portare avanti l'organizzazione di questa manifestazione, possiamo sperare che tutto quello che abbiamo fatto sia di vantaggio per le aziende perché questa fiera può renderle soltanto più competitive. La novità più importante secondo me sono quelli dei bus navetta che speriamo di poter dare un servizio migliore perché questa è una fiera molto molto importante e c'è veramente tantissima gente per cui il posto dove è allocato è un po' pericolosetto, diciamo così tra virgolette, per cui è così tende ad avere una maggiore sicurezza, farà avere una maggiore sicurezza all'utenza che chiunque, chi ci sarà, vedrà che sicuramente avrà delle agevolazioni. Come è cambiata l'economia e come quella comportamentale può influire le nostre vite? Questo è uno dei temi affrontati nel corso di un convegno che ha preso i via oggi a Catania e voluto dalla Società Italiana dell'Economia Pubblica. Negli ultimi vent'anni la visione dell'uomo economicus razionale è stata messa in discussione con una crescente vigore del cosiddetto filone dell'economia comportamentale, con ricerche che hanno individuato e in alcuni casi riscoperto molte contraddizioni con la teoria classica. Ricerche empiriche e sperimentali sul campo condotte ai confini tra economia e psicologia che hanno infatti mostrato che spesso gli individui commettono errori che non vengono autocorretti. Alcuni di questi temi sono stati affrontati questa mattina in occasione della 29esima conferenza annuale della Società Italiana di Economia Pubblica. Facciamo riferimento a tutti gli aspetti collegati alle motivazioni che gli individui in tutti i diversi livelli delle loro scelte economiche hanno quando assumono le proprie decisioni e questo aiuta sicuramente a comprendere le motivazioni, gli effetti e anche a orientare le politiche pubbliche. L'economia comportamentale coniugata nel notte e giorni, per esempio, noi ci occupiamo una parte dell'economia comportamentale si occupa degli studi sull'evasione e l'economia più tradizionale considera le scelte di evasione sempre come una scelta un po' opportunistica dove le scelte di evasione sono determinate da un calcolo unicamente economico, per esempio l'economia comportamentale studia quali sono anche le motivazioni etiche, il rapporto tra lo Stato e il cittadino che favorisce una maggiore o una minore adempienza agli obblighi fiscali, quindi questo tipo è tipicamente un argomento dell'economia comportamentale di cui ci occupiamo di economia comportamentale e di economia pubblica dove ci sono diverse sezioni per esempio su questo tema dell'evasione qui alla nostra riunione. L'ospedale Canizzaro di Catania aderisce anche quest'anno alla giornata della prevenzione per la diagnosi precoce dei tumori del cavo orale giunta alla terza edizione dopo il successo delle due precedenti. Gli specialisti offriranno gratuitamente uno screening del cavo orale domani dalle 9 alle 12 nell'ambulatorio di chirurgia cervico-facciale al padiglione Q al primo piano. L'accesso è libero, non sono richieste né prenotazioni né ticket appunto all'ospedale Canizzaro di Catania. C'è adesso lo sport con la notizia dell'Andrea Pallamano Licitra che giocherà sabato prossimo a partire dalle 19 la prima partita di serie a uno tra le Muramik. Un traguardo storico per lo sport ragusano visto che mai in precedenza nessuna realtà di handball era mai arrivata così in alto. Di fronte al set allenato da Salvatore Russo ci sarà anche un avversario impossibile, quello dell'Albatro Siracusa, società storica che milita da anni nella massima serie che sfodera un attacco di prima classe con pedine che possono contare su una carriera ormai ben consolidata. L'Andrea Licitra Pallamano Ragusa rivolge inoltre anche un appello ai propri tifosi affinché possano essere presenti alla palestra Sebastiano Parisi di via Bellarmino. È davvero tutto con questa notizia. Grazie come sempre per averci seguiti. MTG torna alle 20.30. Grazie ancora per la cortesa attenzione e buon proseguimento.